Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova serie Questa serie infatti è un rilancio di una vecchia serie che ho lanciato ancora agli inizi del canale Che era piaciuta un sacco e che tanti mi hanno copiato Che è la mia attrezzatura da spinning Questa volta però dato che l'arsenale si è ingrandito Farò molto più specifico come avrete letto dal titolo Questo è l'episodio 1 Quindi ragazzi mi raccomando per portare avanti questa serie Dato che ci saranno molti episodi in modo anche da parlarne un pochino più in maniera specifica Superiamo i 150 like in questo video In modo che mi fate capire che vi interessa Magari scrivetemi qua sotto qualche commentino su cosa vorreste sapere di più E quale tecniche vi piacerebbe prima vedere E dunque non perdiamo altro tempo e via con il video Facciamo una piccola introduzione Oggi andremo a parlare del Foss Fishing Vi voglio parlare più o meno dell'attrezzatura Esche, fili, mulinelli, canne Che ho utilizzato negli ultimi 2-3 anni Quindi roba già bella collaudata Testata per bene E soprattutto che ha un sacco di sfumature Perché questa tecnica troviamo il siluro, la carpa, cavedano, scardola, carassio Abbiamo il perca Abbiamo la trota Perché di recentemente avete visto anche delle trote Che poi volendo si potrebbe contare anche barbo, luccio E qualche altro bel pesce che gira nei fossi Quindi è una tecnica che copre molti pesci E gli assetti sono veramente leggeri Quindi ci si diverte molto Parliamo con le canne Allora queste due le uso dall'ultimo anno praticamente Però hanno fatto molte catture E anche di taglie decisamente importanti La prima canna che vi vado a presentare Che se seguite il canale comunque conoscete bene o male tutto La Blackwater Canna che uso in due versioni da 8 mesi circa Che ho fatto di tutto veramente con queste canne Nello specifico la uso nella 0,10 grammi 2 metri ai 10 Così ho una grande versatilità Questa è una canna tubolar Quindi che uso principalmente con l'heartbait O testine un pochino più pesanti Dai 5 grammi in su Ha un'azione fast Con una bella azione di punta Perfetta per gestire heartbait Jerk, Minnov E così via Però anche comunque non ha paura Delle testine più leggere 2-3 grammi Questa canna la uso principalmente a Jerk e Minnov Però l'ho provata sia a rotante che a gomma Non ha avuto nessun problema Abbinata a lei abbiamo l'Arias taglia 2000 Che ormai questo mulinello mi sta accompagnando da 5 anni E non ha avuto mai un problema Imbobbinato dal mulinello abbiamo un Viral dello 008 Tubertini E come finale io nel Foss Fishing di solito Mi tengo con uno 018 di Boss Che da poco non devo vedere Poi seconda canna abbiamo la Seika Mimic Anche questa nuova uscita Che però ha già una base della Optical Che è stata apprezzata Però ho visto in giro molte Mimic Vedo che è stata apprezzata pure questa C'è questa bella estetica Con la Cosa Camo Che comunque chi segue il canale Ha già visto e rivisto Anche nell'unboxing Canna solid in questo caso Fatta per gestire le gommine Abbiamo la cima riportata Che ci aiuta a gestire meglio Le esche più leggere Soprattutto in gomma In particolare la versione 2,20 m Per un casting da 1 a 6 grammi Questa la uso sia a testina Che a dropshot Per iperca Per carpe Anche si l'uretti l'ho testata Ci ho preso un po' di tutto Quindi è affidabile E abbinato troviamo un mulinello Della sua fascia di prezzo Ovvero il Drex Sempre taglia 2000 Che dopo ci faremo una piccola parentesi Poi se dovete prendere spunto Così sapete cosa prendere E sempre il Vila 0008 Che secondo me in generale Qualità prezzo È il miglior trecciato Attualmente sul mercato Piccola parentesi In questo tipo di pesca Ci utilizzano canne Sull'assetto leggero Ultra leggero Qua avete due esempi Completamente diversi di canne Quindi proprio La parte dell'hard bait Con la black water E la parte Della soft bait Ultra leggera Con la mimic E in pratica Nel fast fishing Sono i due opposti Che quindi Quando non serve una Serve l'altra E se dovete Se vi servono Due combo Da light E quindi se dovete pescare A gomma O magari qualche piccola Hard bait Qualche spoon Qualche cucchiaino piccolo O qualche piccolo minnov Ma principalmente a gomma C'è la mimic Se dovete pescare Principalmente con piccoli minnov Trote Cavedani E magari qualche gommetta È meglio la black water Quindi Sono le due canne complementari Che vanno a completarsi Su set medio economico Per il fast fishing Altra cosa molto importante Io consiglio vivamente L'acquisto di un mulinello 2000-2005 Il 1000 L'ho provato Un mulinello 1000 A fast fishing Risulta molto fastidioso Ok Si va a togliere via del peso Che comunque Su una canna leggera Ci sta Però si va a togliere Molto il lancio Va a tagliare Troppo il lancio Soprattutto Quando si usano Esche leggere Risulta che Il lancio viene Molto ridotto In lunghezza E quindi anche Sia la precisione Che magari può esserci Anche un po' di vento Che quindi Quando si va a pescare Con un testino da Un grammo Un grammo e mezzo Due Risulta molto fastidioso La nostra prestazione Di pesca Sarà molto inferiore Rispetto a un 2000-2005 E inoltre Andrà molto A tagliare i lanci In lunghezza Magari se vogliamo Andarci a fare Qualche altra tecnica Ci risulterà Molto inefficiente Quindi Vi consiglio Almeno un 2000 O 2005 In base al mulinello Però se volete Andare su sicuro Andate su quei mulinelli E andate a posto Poi passiamo Dalla parte Delle buffetterie Io Di recente Ho preso Il marsupio Buddy Che Nelle ultime uscite È diventato veramente Il mio migliore amico Perché Devo anche un po' Io imparare A portarmi il minimo necessario Però Tutto quello che mi possa servire E questo mi Riesce a portare tutto Quindi Vabbè Oltre al guadino Che Conoscete bene Basta vedere Un video a caso Di quelli di quest'anno Lo vedete Il Predator Pro Che è Praticamente Sempre necessario portare In questo caso Il Predator Pro Se volete Un guadino corto Con maglie in gomma Veloce distrazione E Versatile Che Io l'ho portato Appertutto Kayak Barca Da riva Torrente Tutto Tiene pesce fino anche Contandosi l'uro Un metro E qualcosa E Nel caso di Pesci più pesanti Carpe 5-6 kg Trote 5-6 kg Può tenere un sacco di pesci Può tenere luci Da 60-70 È un guadino Versatile Vi devo parlare un attimo Del filo Nel giro dell'ultimo anno Mi sono trovato a utilizzare Il boss Praticamente sempre Dalla misura del 12 Alla misura del 0-30 O sia il 16 Che il 20 Che è la misura più grande È la misura più piccola Quando voglio andare sul sicuro Vado sempre di 18 Perché È un diametro piccolo Ma non troppo Comunque è quella invisibilità Di un filo più fino del 20 Che può fare la differenza Su pesci sospettosi Però è quella resistenza più Rispetto al 16 Non che ce ne sia tanta differenza Però Metti caso Ci ho preso Quest'anno Tipo 4-5 siluri Da metro Quindi Direi che tiene Carpe 4-5 kg Passiamo al lato Piombi Testine Ho iniziato ad usare La serie SK di piombi Queste abbiamo in Cebu Rasca Da 3 grammi Ad esempio Sia in versione Cebu Rasca Che in versione Dropshot Che può tornare utile Quando sei sui fossi più piccoli Che magari è un po' di corrente Di pescare sul fondo Un po' più pesante Con esche piccole Poi Abbiamo un po' Testine miste Da 08 Fino a 3 grammi Dei ciprini Anche dei siluri Sempre parlando di metallo Ho questa scatolina Dove ho tutti i cucchiaini In questo caso Sono i Vertix Dalla taglia 1 Alla taglia 3 Ovvero taglia più piccola Taglia più grande Vi faccio vedere Uno della taglia più piccola Eccolo qua Eccolo qua Sia paletta dorata Che paletta argentata Con vari colori Per chi se lo chiedesse Ho fatto un video L'anno scorso Dei nodi Altra cosa Io di solito metto Il moschettone Solo con le hardbait Con le softbait Di solito faccio nodi diretto Perché è più facile Che mi incagli Quindi Perdo un moschettone in meno Come hardbait Ho La Seika box Sulle hardbait più grandi E abbiamo Tra quelle più utilizzate Il Samu 50 E 40 In questa colorazione Che La fotocamera mette Queste due colorazioni Ovvero Ayu E Questa un po' più Azzura Quando l'acqua è sporca E Soprattutto Colorazione Non la chiamo io Marmorata Che questo marroncino Con delle macchette Ho fatto veramente Un sacco di cavedani Per poi passare a esche Tipo Il flat rear Quella pesca comunque Di siluri Ne vanno matti E Tutti i piccoli predatori Cavedani Lucetti Che anche loro Non possono farne a meno Un'altra scatola Di hardbait Ho tutta la roba Da aria Comunque Il vivo Vari spoon Da trottare Da 1 a 3 grammi E tutti Tutti i cranchettini Da trottare Che male non fanno Soprattutto Il Ray D Il Ray D Tira tanto Infine passiamo Al reparto gomme Che ho tutta questa Tascona piena Andiamo a fare Un piccolo recap Di gomme Ho Mini worm Di vari colori Allora Rosa Il bianco E il giallo Che sono quelli che utilizzo di più Ok Che dopo ce ne avrei anche altri Overei il nero Roba però Anche il nero A carpe va Tanto forte Insieme al giallo E il Rosa Invece per cavedani Di solito uso il bianco O il giallo Un po' di esche Infatti mi mancano Perché ho finito i colori E quindi È così Poi abbiamo il TB22 Ecco qua Altra eschina Che uso tanto A carpe Insieme al fratello TB23 In questo caso Verdino Buonissima colorazione Insieme al nero Poi Altre esche Che uso tanto Sono Le ninfette Della Seica Guardate l'etichetta Perché ho cambiato la busta Sia Colore verde Rosa E rosso Casi che hanno In fettina Di gomma Poi ci sarebbe Il TB70 Che è un'isca Che quando i pesci Non vogliono mangiare Va tantissimo Che ho finito Pure quello Mi è rimasto Un rimasuglio Sono in tre colorazioni Nero Verde Marroncino E marroncino Che Finisce con la cosa Quindi prendetene Anche voi Un sacco di buste E infine Novità di quest'anno Appena appena uscita Che ho già avuto Modo di mettere Vittime Chi mi segue su Instagram Lo sa Il Wikishad Taglia 6 cm 2,4 La taglia più piccola Che è a varie colorazioni Questa volta Ce le ho tutte Perché mi sono appena arrivate Abbiamo questo verdino Bianco Che va tanto a perca Rosa Verdino Che va tanto a perca Infatti Si può notare Arancione Arancione Mercoledì prossimo Con un video Fotonico Quindi vi aspetto Sul canale E dunque direi Ciao a tutti E dunque direi